Ti sono piaciuti gli stavoli scorso anno? Bene, ora è il tuo momento. Mandaci un video, un breve video tipo questo, dove ci esponi l'argomento che vorresti trattare. Io ad esempio vorrei parlare di come secondo me si dovrebbe organizzare il proprio lavoro affinché aumentino i profitti. Inviaci un breve video a segreteria.nfm.it E adesso, papi tu!